Ciao a tutti, io sono il Dylan Dogofilo, oggi recensione dell'album in sile numero 323 L'occhio di Balor, copertina di Angelo Stano molto buona anche se Dylan ha forse delle labbra fin troppo carnose, un volto più delineato verso le fattezze di Michael Jackson che quelle di Rupert Everett e qua abbiamo un essere della razza Fomor ben disegnata da Angelo Stano. Il contesto dello sfondo è stato a sua volta ben ricreato, la copertina tutto sommato convince. Testo e sceneggiature di Denard e disegni di Casertano, di che cosa parla questa avventura? Ci sono alcuni mercenari che vogliono ottenere un'arma potentissima all'occhio di Balor, per farciò dovranno rapire l'ultimo dei Fomor, l'ultimo superstite di questa razza molto aggressiva, molto particolare. Questa ragazza che ha una madre umana e un padre Fomor, quindi questa ragazza ha la capacità sia di trasformarsi in umana sia di trasformarsi in questo lucertolone, per intenderci. Cosa succede però nel mentre? Questa ragazza, quando era bambina, ha visto ammazzarsi il suo genitore, quindi vuole capirne di più e raggiunge Londra per estrapolare alcune informazioni sul suo passato da alcuni di questi mercenari ormai andati in pensione. E quindi è una doppia caccia all'uomo. I mercenari da una parte vogliono rapire questa ragazza e dall'altra la ragazza vuole far del male a queste persone per scoprire di più sul suo passato. Nel mentre Dylan verrà chiamato da Block perché a Scotland Yard aggiungono alcuni avvistamenti riguardo questo mostro e chi meglio dell'indagatore dell'incubo per scoprire cosa c'è dietro tutto ciò. Quindi alla fine di tutto ci troviamo davanti a una storia ben scritta che ha una sceneggiatura molto filante che si articola in molte scene perfettamente collegate tra di loro. Non mancano le scene d'azione, Dylan che risulta molto frizzante in questa avventura con uno humor sempre inerente ai vari contesti. I personaggi sono pochi ma buoni perché ognuno di loro viene egregiamente approfondito. Quindi il lavoro offerto da De Nardo convince particolarmente così come i disegni di Casertano che si afferma ancora una volta forse come il miglior artista di Casa Bonelli. Potrebbe anche essere perché insomma i suoi disegni sono davvero spettacolari. Dylan non ricarica molto bene la fisionomia del volto di Rupert Everett. Ha più che altro un tratto personalizzato e differente offerto da Casertano comunque convincente. Ci sono tantissime scene che risultano molti disegni molto densi. Guardate qui questo mostro come è stato ben ricreato. Danno quasi un senso di pienezza questi disegni. Non sembrano semplicemente dei tratti in due dimensioni stampati su carta. Sono molto molto di più. E soprattutto tante espressioni riescono a trasmettere emozioni inedite che nemmeno i testi di De Nardo riescono ad offrire. Insomma i disegni in questa occasione stupiscono e sono eccellenti come al solito. Dunque alla fine di tutto questi mercenari riescono a rapire questa ragazza, a ottenere la potenza dell'occhio di Balor. Ma cosa succede? La morale della favola. Chi troppo vuole nulla stringe. Infatti il capo di tutto, il capo che voleva questo occhio non è riuscito a controllare il potere ed è morto a causa di ciò. Quindi il caso si risolve. In questa maniera molto simpatica questa idea della ragazza Fonbor. Molto bella la trama, molto bella questa storia. Che in alcuni punti sembra proprio un film. Talmente si legge bene, talmente le scene sono ben collegate tra di loro. Insomma ben scritta, ben sceneggiata e ben disegnata. Voto finale che vado ad assegnare un 9. Potrei stare qui tutto il giorno a farvi vedere ogni singola vignetta di questa avventura con i disegni davvero straordinari di Casertano. Ma ci metterai davvero troppo tempo. Guardate la femminilità come è stata ben ricreata da Casertano. Lui che riesce sempre a presentare donne formose davvero molto molto belle. Per il momento è tutto. Se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta condividila dove vuoi con chi vuoi. Iscriviti al canale YouTube del Dilan Dogofilo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dilan Dog. E noi ci vediamo nel prossimo video completamente dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo.